Innotech fornisce attrezzature e diagnosi complete per officine, carrozzerie e centri in revisione, nonché attrezzature per autolavaggi. Innotech, lo specialista sempre al tuo fianco. Come si è già detto dall'inizio della settimana, la Cavese è pronta a ottenere l'affidamento in concessione dello stadio Simone Talamberti tramite la procedura di aggiudicazione provvisoria dell'impianto. Ormai siamo ai dettagli, la firma del contratto di Canone dovrebbe essere cosa fatta? Cinque anni, con possibilità di estendere la durata della concessione ad altri cinque anni. Vincenzo Servalli, il sindaco di Cavale Tirreni, ha parlato a proposito di quella che era stata la bella serata di giovedì in piazza Vittorio Emanuele III con la presentazione ufficiale della Cavese, che si appresterà ad affrontare il campionato di Serie D. La tifoseria ha chiesto a società e squadra di dare il cuore. Sì, mi sembra una richiesta assolutamente legittima. Io credo che la società ce l'ha sempre messo, in verità, anche l'anno scorso, per il modo certamente di tanto in tanto con il quale ho potuto colloquiare con il Presidente o vedere le partite insieme in trasferta o anche in casa. Ho sempre visto un grande cuore, un grande trasporto, una grande emozione della dirigenza nel suo complesso e del Presidente in maniera particolare. Quello che è venuto un po' meno nelle ultime tre partite dove ci siamo giocati il campionato è stato il cuore della squadra. C'è stato un cambiamento radicale adesso in tutta la parte tecnica, dirigenziale, allenatore, giocatori e quindi quello che va chiesto a questi nuovi atleti e tutta la parte ovviamente tecnica e di aggiungere alla capacità tecnica eccetera il cuore, il cuore che è la molla che fa vincere poi le partite anche più difficili. Quindi la Cavese ottiene in gestione il Simonetta Lamberti che utilizzerà già domenica 3 settembre per la partita di Coppa con la Palmese, ma la prospettiva resta quella di creare uno stadio nuovo a limitare della città nell'area individuata dal PUC. Eppure qualcuno nella serata di giovedì ha fatto capire che vede poco di buon occhio tale possibilità, ma Servalli torna a commentare quella che è l'idea di costruire in futuro un impianto per il calcio che sia più capiente. Io penso che questa sia la strada maestra, il Simonetta Lamberti quando fu concepito fu concepito in una località che all'epoca era a periferia della città, oggi invece il Simonetta Lamberti è collocato in pieno centro urbano possiamo dire. Questo determina tutta una serie di limiti a partire dai parcheggi o anche di altro genere è un impianto che per quanto noi abbiamo fatto investimenti importantissimi, se non avessimo messo mano al Simonetta Lamberti e non mi riferisco solo alle torri faro ma a tante altre cose non si sarebbe potuto più giocare, quindi abbiamo fatto molto per il Simonetta Lamberti, oggi dobbiamo guardare alla prospettiva, la prospettiva è che in tutte le città si realizzano impianti moderni, pieni di infrastrutture, di comfort, gli stati diventano luoghi da vivere anche non soltanto la domenica dove si gioca le partite e noi dobbiamo guardare ed investire sul futuro. Abbiamo la fortuna che il Presidente lo vuole fare, abbiamo la fortuna che nel piano urbanistico comunale approvato dalla mia amministrazione precedente c'è uno spazio e quindi l'idea di costruire uno stadio che ha un minimo di 12.000 posti e che quindi fa traguardare un futuro importante per la squadra a mio avviso è una strada che aveva perseguita e noi ci siamo, fino a quando farò il Sindaco e potrò accompagnare questo processo lo farò volentieri. Vediamo che possa piacere un po' tutta la città questo. Certo, queste sono scelte che vanno condivise, sono scelte che sono patrimonio della città, né di un Presidente né di un Sindaco.